SUV Cinque bestioline in una macchina potente giocano con la loro vita e quella altrui. Un pensiero molto basso esegue la debole coscienza. Il volo febbrile della corsa nutre la voglia di correre più forte. Nel SUV risate di vittoria, emozioni mai provate prima e brezze isteriche. In fondo alla strada spunta una mamma con due figli piccoli. In fondo, in fondo il destino si prepara. La coscienza manca nelle grida delle cinque bestioline. Il SUV si immerge nell'utilitaria e la violenta, uccide il bambino, ferisce la mamma e l'altra figlia. Avvolge tutti nel dolore in cui si specchiano le cinque bestioline. Perché bestioline? Perché sono alle prime incarnazioni umane.